Stanno facendo benza Ciao vi racconto dove andiamo oggi E' accesa, si Oggi andiamo a Consonno Che è una specie di paesino Abbandonato a se stesso Non so da quanti anni Ma scendo perché mi sono rotto il cazzo Eh, se andiamo giù di qua facciamo però La sua strada Eh, si, minchia, se no non arriviamo mai Te la ricordi la strada? Io no Non me la ricordo la strada E arriviamo a Lecco e cerchiamo sulla mappa Non è lontà Bisogna uscire prima tipo questa Masnaga Un po' come quello Siamo entrato un cazzo di cosa nell'occhio Fanculo Ma porco Dias Non mi ricordo dov'è Ci sono due strade Cioè, strada? Sì Sbagliata? Sbagliata Solo che non sappiamo Ci sono due posti per arrivare Uno che è tipo sopra Sbagliata 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 Figa allora c'è una strada che è quella dall'altra parte e poi c'è una di qui che a un certo punto è una sbarra ma è sempre aperta però questa è quella che si dico da questa parte non me la segna mi diventa il cattivo il cattiero lungo e la cornabelle eh mi dice che praticamente è la via che gira a destra dopo di questa cazzo dai ma purtana Eva bene si ma siamo veramente degli sfigati del cazzo comunque eh ma noi non possiamo passare secondo me no dici scusi non si può salire di qua si si può basta che dopo però riuscite a passare di più si yeah con sonno il paese tipo l'occhi il marciume qua dovrebbe esserci il cartello eccolo qua no ma si legge eh chi vive con sonno campa di più insomma oh coda oh quando tu mi sei passato mi sono arrivati in faccia dei sassi voleva fare las vegas scusami quindi un si dove c'era un ma c'era il casino no ma c'era anche la scuola doveva fare las vegas senza il casino si quindi non voleva fare las vegas cioè voleva fare una cittadina eh ma non so se poteva farlo cittadina parco giochi si città dei balocchi quella lì era una scuola quella era una scuola si oh cristo dai porco dios che cazzo oh scusate dove cazzo è tua mia perché ha detto che era aperto il tipo di là sono dei cilindri che cazzo beh sì migliorato dei cilindri sono 300cc sono dei cilindri come il mio più o meno non lo so sicuramente molto meno perché ma ci hanno fatto uno per un centro sociale scusami stai facendo il video per i mortoblock ma sai che la ultima volta che siamo venuti sti alberi qua non c'erano comunque tu scherzo l'anno prossimo no io non scherzo ti confezza la mia scoppietta la mia scoppietta è brutta sto cercando di apportare io chiudo il video col panorama poi panorama è bello si ma ste cazze di apri veramente puttana merda il video è ora quando viene da qui è un video il video è un video Grazie per la visione!